Potremmo farla fare a lui, il nostro poeta, col suo momento... Ciao Paola, benvenuta in questo covo di pirla. È vero, è vero. Il momento è catartico, Gubbusa. No, Visio, il momento non è catartico, il momento è sodomitico. Cioè? Visio, se non mi fai dire la poesia... Ho capito, ho capito, ho capito. Fai te la dire. No, grazie. Noi ci appartiamo, ci puliamo. Va bene. Atmosfera. Ma chiudi la bocca? Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che due più due fa quattro. Ti ho ribadito che due rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi. No, grazie.